Nel Novecento nasce la filosofia, analitica, dal linguaggio, la quale mettendo insieme logica e linguistica cerca di analizzare il senso e il significato delle cose che diciamo. Però vorrei leggervi ciò che dice Carlo Penco, uno dei pochissimi analitici in Italia su cosa significa fare filosofia. Per Aristotele l'essere umano è un animale irrazionale, cioè capaci di ragionamento. Ragionare significa dare ragioni, in una parola argomentare. Compito della filosofia è tenere viva la luce della ragione contro gli inganni che derivano dall'accettazione critica di qualsiasi discorso. Nei suoi appunti degli anni Trento Wittgenstein scriviva, filosofare e respingere argomentazioni erronee. Quindi il filosofo deve sia argomentare, e quindi usare correttamente la logica, e sia avere spirito critico. E continua, Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, era un ingegnere che si dedicò alla filosofia. Di per sé non vi è molto in comune tra filosofia e ingegneria. Agli ingegneri civili si chiede uno studio attento dei calcoli perché gli edifici non crollino. Calcoli sbagliati e materiali scadenti non sempre sono visibili a occhio nudo, ma si rivelano con il tempo nella fragilità dell'edificio. Qualcosa di analogo vale per i discorsi. Anch'essi possono essere costruiti con materiali scadenti, bugie, o su calcoli sbagliati, argomentazioni errate. Occorre uno studio per riconoscere discorsi che non stanno in piedi. Il filosofo del linguaggio non si limita a chiedersi qual è il significato di una parola o di un enunciato, ma si domanda qual è il significato della parola significato. La filosofia del linguaggio si trova al confine tra logica e linguistica, e cerca soprattutto di analizzare le argomentazioni a favore e contro le diverse visioni del significato, che di volta in volta vengano proposte. Tutto il pensiero è filosofia. Dopo tutto quello che abbiamo detto finora credo che sia evidente che nessun'altra forma del sapere abbia gli stessi obiettivi e lo stesso metodo. Però la filosofia non avendo oggetto specifico può indagare ogni campo del sapere, anche scientifico, e ovviamente l'oggetto d'indagine deve essere affrontato col metodo e atteggiamento critico, antidogmatico, cercando di argomentare in maniera valida. Quindi i filosofi possono essere anche teologi, scienziati, matematici, eccetera, anzi, spesso i filosofi del passato hanno studiato parecchie discipline, soprattutto nel Medioevo. Riguardo la scienza va detto però che la natura stessa della scienza, in teoria, molto in teoria, deriva dalla filosofia, poiché nella scienza la verità non esiste, non esistono risposte definitive, è falsificabile, può sempre essere messa in discussione. Inoltre il metodo della scienza si basa almeno in parte sulla logica e il suo metodo deriva da quello aristotelico e l'applicazione della matematica alla scienza deriva dai platonici. Nei prossimi video cercherò di illustrarvi le basi della logica e soprattutto gli errori logici che tutti noi commettiamo. Senza queste basi non è possibile argomentare, controargomentare, riconoscere un'argomentazione valida o fallace, e di conseguenza non è possibile capire la filosofia. Per il momento è tutto, alla prossima!